Il futuro è già qui ma non è stato distribuito e lo sarà il prossimo 7 novembre a Milano in occasione del Dell Technology Forum in cui farò un intervento di visione ma in cui suggerirò anche applicazioni concrete e cosa bisogna fare per chi ha incarichi in azienda sino ad arrivare ovviamente ai vantaggi concreti dell'intelligenza artificiale generativa in azienda e rischi collegati come per esempio dalla cyber security alla protezione dei dati sarà il super studio più di Milano il 7 novembre ci vediamo lì